Voga 2015, giorno 1. Cominciamo la challenge del vlog ogni giorno in agosto. L'argomento di oggi è «parla di te, presentati». Bene, direi di cominciare con benvenuti nel mio laboratorio. Io sono Grizzly, sono a Syracuse e faccio il tecnico informatico. Nel tempo libero faccio lo youtuber e sto facendo questa challenge, perché ho l'idea di portare appunto il VED, il vlog every day in August, in Italia e viverlo in italiano. In aprile l'ho fatto in inglese, quindi voglio un pochettino provare questo esperimento, anche sul canale italiano, e naturalmente sfido tutti voi che mi state guardando, se siete youtuber, se avete un piccolo canale, a provare a mettervi in gioco. Sul w2 trovate il calendario dei argomenti da trattare, perché so che è difficile fare un vlog ogni giorno per 31 giorni, perché a un certo punto uno dice «sì, vabbè, ma di che cosa parlo oggi?». Quindi questo vlog sarà un po' più lungo degli altri, sicuramente, perché vuole anche introdurre questa challenge, ma per il resto troverete dei vlog... qualcuno più lungo, qualcuno più breve. Quello che conta è mettere a disposizione il proprio tempo libero. Come dicevo, sono un tecnico informatico, nel tempo libero faccio lo youtuber, mi diletto di video, nel tempo libero sono anche un volontario di protezione civile e, tra le altre cose, adesso siamo in agosto, questa è la mia ultima settimana di lavoro, cioè nel senso che oggi è sabato, come vedete sono in ufficio come tutti i sabati da molti anni. La settimana entrante sarà la mia ultima settimana in ufficio, giorno 8 il mio ultimo giorno di ufficio, poi cominciano le ferie. E con le ferie, purtroppo voglio dire purtroppo perché sarebbe bello che non succedesse, ma purtroppo succede tutti gli anni, con le ferie, col periodo estivo qui in Sicilia cominceranno gli incendi, cioè in realtà sono già cominciati gli incendi estivi. I miei colleghi hanno già cominciato a intervenire per spegnere gli incendi estivi, ma io lavoravo, quindi purtroppo lavoro, faccio volontariato, non posso fare entrambe le cose. Adesso che sono... che comincerò le ferie, comunque sarò un pochino più disponibile per l'antincendio, e questo significa che crescerà sicuramente la mia playlist Protezione Civile, Volontariato e Soccorso che vi lascio linkata anche quella sul doobly-doo, che è la playlist nella quale pubblico i miei video dei servizi di Protezione Civile. Questo sono io, ragazzi. Di nuovo, questo era il primo vlog del Voga, per cui se non l'avete già fatto vi ricordo di iscrivervi al mio canale, se questo vlog vi è piaciuto, vi incuriosisce la challenge del Voga, vi invito a fare pollice in alto, e noi ci vediamo domani. Domani che domeniche ci vediamo innanzi tutto come sempre alle 8 con Diario di Viaggio on the road, perché la pubblicazione di Diario di Viaggio on the road continuerà tutte le domeniche, ma soprattutto ci vediamo anche con il prossimo vlog del Voga. Quindi ciao a tutti, e a domani!